Tu a un certo punto lasci la carta stampata per la televisione, come mai? Per la radio. Per la radio. Per la radio. All'improvviso io ero l'uomo più felice della terra alla stampa di Torino, dove mi occupavo di politica interna. Ricevetti una telefonata dal mitico, grandissimo direttore del generale di allora, Biagio Agnes, e mi disse vuoi venire a dirigere il GR1. Sciolsero la riserva due personaggi fondamentali nella mia vita professionale. Il primo è il mio editore di allora, l'avvocato Giovanni Agnelli, che era il proprietario della stampa. Dice, senta, faccia una cosa, vada, come faceva lui, vada, faccia bene, e se non si trova bene, torni. Beh, perfetto. Il giorno dopo questo colloquio, io ero ancora alla stampa, arriva una telefonata, io pensavo fosse la solita telefonata di lavoro, le passiamo il Presidente della Repubblica così, Luca, Presidente, ma, dice, che cos'è questa voce? Presidente, che ho combinato? Dice, lasci la stampa e vai a dirigere il GR1. Mi dica lei, Presidente, che devo fare? E come faccio io senza il mio Luca la mattina? Presidente, allora che faccio se il Presidente della Repubblica mi dice non andare e non vado? No, vai, 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 vai. Sei andato e ti sei trovato bene. Mi sono trovato benissimo.